Dal Vangelo secondo Luca, un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda. Le folle, chi dicono che io sia? Essi risposero, Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro, ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose, il Cristo di Dio. Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il figlio dell'uomo disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli iscrivi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Il cristiano è un uomo, è una donna che sa vivere nel momento e sa vivere nel tempo. Il momento è quello che noi abbiamo in mano adesso, ma questo non è il tempo, questo passa. Forse noi possiamo sentirci padroni del momento, ma l'inganno è crederci padroni del tempo. Il tempo non è nostro, il tempo è di Dio. Il momento è nelle nostre mani e anche nella nostra libertà di come prenderlo. Di più, noi possiamo diventare soverani del momento, del tempo soltanto se un soverano, un solo Signore, Gesù Cristo.